Salve a tutti, oggi vi porto un racconto SCP, Fenere Sangue. Questo racconto è stato scritto dalla civiltà da Eva, un'antica civiltà descritta in SCP 140 che venera l'entità nota come Scarlet King e Scarlato. Iniziamo. La nostra storia inizia quando il seme dell'albero della conoscenza è stato piantato, quando tutte le cose sono formate, l'abisso e gli antichi. Tra questi, Karak. Karak rispetto ai suoi fratelli e sorelle era piccolo e la sua crescita è stata graduale. Ma a differenza loro, solo che non sapevano chi erano o cosa fosse l'abisso, lui sapeva. Questa era la sua maledizione e benedizione. Era un incubo. Era meglio non esistere. Era meglio che non esistesse niente. Dopo questo, quindi, decise di uccidere, di divorare i suoi fratelli e sorelle. A questo punto, Karak decise di maledire il creatore e la creazione e avrebbe sradicato l'albero della vita e della conoscenza. Karak scese giù in profondità nell'abisso, sul suo trono d'ossa, creato dalle ossa degli altri divinità. Tutte le divinità che non erano state divorate erano ora al suo servizio. Lui era ora il re delle tenebre, Knitgor. Knitgor portò sventurate anime nell'abisso, lontane dalla vera pace. Nella fine, Knitgor dichiarò guerra alla creazione. Tra le divinità al servizio, o comunque, che erano state soggiocate da Knitgor, Sanna era la più bella. E quando iniziò la guerra, Knitgor portò Sanna via con sé per sette giorni e sette notti. Poi Knitgor risalì dal sangue di Sanna, scoperto da esso, e ora era noto come Shormouse Hurdal, il re Scarlato. Portò con sé le sette figlie di Sanna. Sarebbero diventate le sue sette spose, su cui mise un sigillo, per evitare che facessero la fine di Sanna. Da loro sarebbero nati i Leviatani, le bestie che avrebbero guidato l'esercito del re Scarlato. Iniziamo con la prima sposa, Atvi, la più amata dal re, e i suoi figli erano tra i più saggi, e avrebbero guidato la conquista dell'esercito del re. Il sigillo era Vado, dominio, perché lei voleva dominare, ma era anche essa dominata dal re. Inizio è Agor, lei aveva un buco nella sua anima. Da lei nacque un intero esercito di creature, che avanzarono per la creazione del re. Sigillo, Ifen, desiderio. Il suo desiderio non poteva essere portato né dai figli né dal re. Dista, lei odiava le sue sorelle, e i suoi figli sarebbero emersi quando bisognava annunciare la vittoria del re. Avrebbero affogato il campo di battaglia in ceneri e sangue. Avrebbero lasciato dietro di loro come una scia, paura e pestilenza. Il sigillo di questa sposa era Ezum, l'isolazione, che avrebbe portato. Che era nella sua anima. Azieb, questa è la quarta sposa. Azieb si era trasformata in una bestia gigantesca. E i suoi figli non erano da meno. Erano invulnerabili alle armi e agli incantesimi. Il suo sigillo era Ba, ovvero Ira. Poi era Anut. Anut era molto intelligente, ma era molto fragile. I suoi figli erano molto bravi con la magia. Erano bravi con gli incantesimi. Così bravi che il re preferì paralizzarli per evitare che potessero ribellarsi al suo volere. In questo caso il sigillo era NER, mancanza. Sia lei che i suoi figli non riuscivano mai a nutrire la Rosé. Atelif. I suoi figli potevano cambiare volto. E sarebbero riusciti a passare nel bel mezzo della creazione. E sarebbero stati loro ad aprire le vie per il re Scarlato. Il suo sigillo era Ushet. Ushet, non so bene. Comunque, nascosto. Che si era persa nelle tenebre. E poi era la settima sposa, Abath. Lei non era stata completamente rotta, insomma, come viene detto, dal re. I suoi figli, insomma, non i suoi figli per diventare grandi eroi. Erano pochi. Persero tutti. Quando l'albero della conoscenza è stato sradicato, la macchina divoratrice della fabbrica si è unita all'acciaio e al sangue. Colui che era sul patibolo. Colui che era impiccato. Il re impiccato di Alagabba. Non viene detto, ma possiamo capirlo. Non viene detto che era il re impiccato. Presi direttamente dall'albero della conoscenza. Dal centro, la conoscenza. Colui che aveva il principe dai mille volti. I vari volti. Trasformò la volontà dei mortali. Questo è il braccio destro del re. Moloch, invece... Aspetta, non lo so un attimo. Moloch avrebbe risorto la vergogna nei mortali. Era ovviamente chi non era d'accordo con la presa del territorio da parte del re. Ma tutti loro vennero sconfitti. Ridotti a cenere e sangue. La dea di Ottone era stata distrutta. Anche se un termine che potrebbe farvi capire meglio sarebbe frantumata. Il serpente era fuggito. Molte divinità erano morte. Ma il re aveva vinto. E voleva sradicare l'albero. Tutto questo che viene raccontato nel testo, che inoltre voglio specificare, non è ancora avvenuto. Veniva osservato da i tre fratelli morte. Loro sapevano il fatto della guerra, ma non ne parlavano. Non c'era molto da dire. La guerra, voglio specificare, è ancora continuando ora. Quindi, questo video è tutto. Non ci vediamo in un prossimo fantastico video. Ciao!